Musica 3 2 2 1 Uè! Bella a tutti ragazzi! E benvenuti Ad un mio nuovo Video! Io sono Xyuder e ragazzi Mamma mia! Finalmente, finalmente È arrivato! Tutti pensavano che Era un po' una notizia faking Molti non erano convinti E invece ragazzi Questa mattina dalle ore 2 Per la precisione Il fantastico Cavaliere Rosso Ritorna sui nostri Shop di Fortnite Direttamente dalla stagione 2 Con un nuovo colpo Di scena Da parte di Epic Games Ovvero sia Chiamare Il rientro Delle skin Vecchie Tra virgolette Eroi del Passato Un altro colpo Di genio Che permette di Ingranare Un bel po' di danè Alla nostra Bellissima casa Produttrice Di Fortnite Proponendo O riproponendo Appunto Le migliori skin Che hanno fatto La storia Del gioco Piccola parentesi Tutti vi sarete accorti C'è in realtà Qualcosa di strano In questa skin È vero È sempre una skin Leggendaria Quindi 2000 V-Bucks Più il suo piccone Raro 1200 Se non ricordo male Il Cavaliere Rosso Ragazzi Non c'ha il backpack Una delle cose Più belle Delle skin Dei Cavalieri Era la possibilità Di avere Quel meraviglioso Scudo Sul retro Rosso Per il Cavaliere Rosso Nero Per il Cavaliere Nero Questo giro Ragazzi Lo scudo Non è stato Implementato Quindi Pensateci bene 2000 V-Bucks Per una skin Senza Il Backpack Leggevo qualche commento Stamattina Dove dicevano Che Epic Games Si scusa Per l'errore Promette Di rimettere Lo scudo Io Non lo so Sinceramente Il commento ufficiale Di Epic Games Non l'ho visto Da nessuna parte Ci penserei bene Prima di shopparlo Anche per questo fattore Che secondo me È molto molto Importante Comunque ragazzi Oggi parliamo invece Di belle belle news Come ogni mattina Ogni mattina Noi guardiamo Il telegiornale E poi guardiamo Xuder Che fa le news Su Fortnite Ovviamente Perché sono due cose Una cosa importantissima L'altra ci fa arrabbiare Tantissimo Credo che abbiamo capito Qual è Quella che ci fa arrabbiare Tantissimo Oggi ragazzi Vedremo il grande Rientro Del Lancia Missili Non è quello guidato Ragazzi Non è il rocket Ma è un'arma Che Io ero convinto Fosse un concept Invece Sembra Davvero Che sia stata Scovata Anche nei file Del gioco Potrebbe arrivare Nelle prime settimane Della season 5 Vedremo un'altra arma Ancora Che È molto molto interessante E due elementi Molto particolari Tra cui Una nuova emote E un nuovo oggetto Sempre recuperati Dentro i file Del gioco Vi ricordo sempre Che sono leak Quindi molti Si sono sempre Rivelati veri I miei video Però Per quelli che mi dicono Sono cose finte No No ragazzi Sono leak Potrebbero essere inseriti Potrebbero non essere inseriti I file ci sono Poi saranno Gli sviluppatori Che proveranno Ovviamente La reale Il reale Inserimento Nel gioco 3 2 1 Sampatala Guardala qua ragazzi Prima arma Recuperata Dal miei Data mining Ringrazio sempre ovviamente Quello che succede Su Twitch e Youtube Per avere Scacciato Tipo Sanpei Queste immagini Questa ragazzi Potrebbe essere La nuova mitraglia Che va a sostituire La mitraglietta Tattica Che diciamoci La verità A parte Che quando ce l'hai viola Non è che C'ha molto senso Come vedete In realtà Il La modifica È abbastanza evidente Sul caricatore Ragazzi La mitraglietta Tattica Tiene dentro 35 colpi Se non ricordo mai Questa Ha un caricatore Esteso Da 50 colpi Se ci pensiamo bene Ragazzi 50 colpi Sono anche Quelli del caricatore Del nuovo Della nuova pistola Tamburo Il Thompson Come lo chiamiamo noi Ovviamente Perché è il suo nome In realtà Quindi ragazzi Potrebbero Tenere Quelli di Fortnite Solamente La mitraglietta Silenziata Che è letale Imparate ad usare La mitraglia silenziata Perché è devastante È devastante E inserire Al posto della mitraglia Quella classica La nuova mitraglietta Con caricatore Esteso Andremo a vedere Ovviamente Nel proseguio Dei giorni Cosa Ci dovremo Aspettare Ma ragazzi Attenzione Attenzione Perché questa è forte Raga Questa è forte Raga Guarda un po' Sbronk Questo è un file Che potrebbe Essere direttamente Anche L'anteprima Dell'arma Che va Finalmente A rimpiazzare O meglio Non è che lo va Rimpiazzare Perché non sono Missili teleguidati Ma va ad affiancarsi A quello che è già Il lanciagranate E il lanciarazzi Perché è inutile Nascondercelo Ragazzi Fortnite Come punto chiave Anche del suo divertimento C'ha le esplosioni Abbiamo I missili Abbiamo I lanciarazzi I lanciagranate Le bombe esplosive Il missile telecomandato L'esplosivo telecomandato Le granate Insomma ragazzi Gli esplosivi Fan sempre La loro porca figura Beh Se al posto Di un lanciarazzi Troviamo Allora Un'arma Che dispara Quattro rocket Uno dietro l'altro Io credo Che il divertimento Sia Almeno Quattro volte Più alto Questo ragazzi È un cons Non è un cons Questo è un'arma Trovato dentro È un nuovo Lanciamissili Che come vedete ragazzi Viene tenuto Con due mani Grillettino Prepotente Mi spara Quattro razzi A ripetizione Per andare A devastare Praticamente Tutte le strutture Avversarie O comunque A cerchiare Il nemico Non saranno Teleguidati Vabbè Sono troppo Pi Ovviamente Quindi dovremo Mirare Nel punto giusto Per poter fare I peggio Danni Tiri giù Una casa Con un robot Del genere E ci sta Perché quando trovi La gente camperata Nelle abitazioni Quelle precostruite Da Epic Games Ci sta Vero un modo Di tirarli Alla giù Diciamo Con un attacco Massimo 2 Mirato Staremo a vedere Anche questa ragazzi Ma guardate Che cosa vi mostro Adesso Pront Questo è molto Semplice Questa è una cosa Molto divertente Ma anche Altrettanto Semplice Questa ragazzi È Una piattaforma Di accelerazione Per quando Guidiamo Il carrello Ed è una figata Non credo Lo puoi usare Quando sei a piedi E credo Che sia Messo in realtà In giro Per la Che verrà messo In giro Per la mappa Magari lo troveremo In qualche city O in qualche punto Particolare Praticamente Siamo tutti abituati Magari anche in altri Videogiochi Di corse Tipo Mario Kart Per dire O altre cose Che non stanno proprio A passo passo Con la realtà Ad avere dei pad Piantonati per terra Che ti danno Una bella spinta In avanti Beh ragazzi Questa è la conversione Trovata Per Fortnite Quindi tu ci passi Sopra col carrello Ti premi la barra Spaziatrice O tieni premuto X In modo che non metti Giù più il piede Parti in avanti Di prepotenza E vai Veloce Come un missile Ma non teleguidato Un missile E basta Siamo pronti All'ultima immagine L'ultima immagine È la mia preferita Oddio Il quadruplo lanciamissili È una cosa Troppo ficua Ma l'ultima immagine Ragazzi è stata recuperata Guardate un po' Sbam Ragazzi Questa è Una nuova emote Che troveremo Nel proseguio Della season 5 E come vedete Si chiama Selfie Allora E mi piace tanto Perché come GTA 5 Ragazzi È la prima Emote Dinamica Di Fortnite Non sarà solamente Un divertimento Farsi Tirare fuori Il bastone Del selfie Ma ragazzi Si potrà Realmente Utilizzare Il telefono Che viene generato Con questa emote Per fare Degli screen Di gioco Nostri Con i nostri sfondi O addirittura Ovviamente Con i nostri amici Le informazioni Che mi sono state fornite Dicevano addirittura Che si potrà Condividere L'immagine Che verrà salvata In una cartella Del nostro computer Quindi ragazzi Questa è una Delle emote Più interessanti Che se dovesse Rivelarsi Vera Potrebbe Veramente Dare Un bel Brio In più Al nostro Gioco Anche appunto Continuando a rimanere Sempre di più Nella parte Social Beh ragazzi Io spero tantissimo Che queste Quattro news Vi siano Piaciute Un sacco Un bel pollicione In su Se vi è piaciuto Questo video Iscrivetevi al canale Raga oggi Speriamo di arrivare A 60.000 Noi Ci vediamo In live Ciao Noo Ciao Grazie a tutti.